Buongiorno, vedo che è venuta a fare una passeggiata, mi sono in postazione perfetta per vedere i lavori immagino Per vedere, cosa vede? Cosa vede? Cosa vede? I lavori, come stanno proseguendo secondo lei? Sono un po' affrettati, stanno andando avanti, è stato un periodo di stasi, sembrava che... Mi s'erano fermati a un certo punto, adesso tutti i giorni stanno lavorando, le video per vedere? Prego, no, tutti i giorni non vengo, però quando passa vede sempre il lavoro, mi fermo un attimino E vede che procedono insomma, cosa pensa? Ce la facciamo per queste notate a chiudere il cantiere? Cosa pensa? Penso di no, penso di no, penso di no, perché... Penso che i lavori siano iniziati troppo tardi? In un certo senso, sì, perché c'è stato un momento di rallentamento prima, perché penso che non riesco a finirlo, comunque Ok, la ringraziamo e la lasciamo? Non guarda se non è Ok, va bene